La delegazione del congresso statunitense guidata dal senatore democratico Ed Marchi ha visitato questo lunedì il Parlamento di Taiwan. La delegazione bipartisan ha incontrato alti rappresentanti del governo e del settore privato. Una visita destinata ad alimentare le tensioni con la Cina. Un deputato del Partito Democratico progressista al potere nell'isola ha dichiarato che Pechino non può impedire ai politici di qualsiasi paese di visitare Taiwan. La risposta della Cina non si è fatta attendere. La Cina adotterà misure ferme e potenti per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. Un piccolo numero di politici statunitensi e le forze separatiste di Taiwan agiscono in collusione tra loro e tentano di sfidare il principio di una sola Cina, ma sono destinati al fallimento. La Cina ha annunciato anche ulteriori esercitazioni militari intorno a Taiwan. Dopo la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, meno di due settimane fa, Pechino aveva risposto con sette giorni di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola, impiegando aeronautica, marina e unità speciali.